L'inglese è ovunque, ma la gente non lo vede. Alla fine di questo video scoprirai perché nella Nutella c'è il segreto per l'inglese che è ovunque. L'inglese che viene usato tutti i giorni nell'italiano, viene usato in inglese, le persone con cui parlo... Ah, è meeting! Ah, è vero, meeting, che vuol dire incontro. E allora da meeting incontro scopri che meet è incontrare e scopri che nice to meet you è piacere di incontrarti. Praticamente l'inglese già lo sai, ma non lo sai. Quindi qual è il punto? Il punto è usare la curiosità per cercare di osservare l'inglese intorno a noi e semplicemente trasportarlo dalla parte che è usata per l'italiano a portarlo semplicemente dalla parte che è usata per l'inglese. Semplicemente farci attenzione, notarlo e poi tutto viene da sé. Ci sono centinaia e centinaia di vocaboli inglesi usati in italiano che, se trasportati nella sezione cerebrale per l'inglese, miglioreranno il tuo inglese con zero sforzo. Facciamo un esempio. Questa ve la dico alla fine. Se guardate bene c'è scritto tonic water. Ovviamente fare anche attenzione alla pronuncia è importante perché poi quando gli inglesi parlano non parlano come in italiano tonic water, ma tonic water. Quindi una breve ricerca sulla pronuncia aumenta anche l'utilizzo. Tonic water nei scaffali di tutti i supermercati. Tonic water. Fitness. Original. Fitness, no fitness. Fitness. Original. Original, che non è original ma è original. Ovviamente vanno trasportati nella sezione in inglese. E poi ultimo ma non ultimo abbiamo questo che è molto interessante secondo me, che è il simbolo del fair trade. Fair trade. Il famoso eco e solidale, un marchio internazionale. Ultimo ma non ultimo, la parola inglese più italianizzata al mondo e più famosa al mondo è Nutella. Vi siete mai chiesti perché si chiama Nutella? Beh, Nut in inglese vuol dire proprio nocciola. Già sapevi dire nocciola ma non lo sapevi. Nutella. Poi Ella è stata, non so perché, sinceramente non ho fatto uno studio sulla Nutella, però è Nutella, Nut, nocciola. Quindi ripetiamo Meeting, tonic water, fitness original, fair trade, Nutella. Cinque parole in inglese che usiamo praticamente tutti i giorni, se vai al supermercato, se parli con gli amici. Ovviamente non ho fatto una lezione con i prodotti biologici o di nicchia, ho fatto una lezione utilizzando i prodotti quelli di massa. serve per farti capire che l'inglese è ovunque. Con un po' di curiosità, un leggero studio sulla pronuncia e l'inglese è tuo tutti i giorni anche nei scaffali dei supermercati. Sono Stefano Roganti, il fondatore di inglesevero.t Thank you very much and see you on the other side.